Il dibattito con interventi molto profondi, di grande qualità, credo che sia andato il momento di passare a Marco Gabriele della proposta di vista. Questa è la proposta dei delegati da mandare a Roma, all'Assemblea con la voce. Delegati da mandare a Roma, il 13, all'Assemblea nazionale, Davide Pini, Maria Teresa Carminati, Celeste Grossi, Emanuele Salvadè, Stefania Riso, Emilio Gagliardini, Emanuela Geller, Paolo Sinigaglia, Emilio Russo, Antonio Femia, Rosalba Benzoni, Licia Viganò. I supplenti, poi aggiungiamo Gianluca Leo, Gian Paolo Rosso e Aurona Longo. I due supplenti previsti sono Eugenio Secchi e Guido Rovi. Adesso procediamo alla votazione, siamo arrivati a 61 iscrizioni, se qualcuno vuole aderire iscriversi, lì c'è un banchetto apposito per potere, chi non l'ha ancora fatto volesse farlo, se no voteremo per alzata di mano perché credo che non ci siano problemi per nessuno. Grazie.